Benvenuti, oggi parliamo di P-Crypto e confronto con Bitcoin Bitcoin e la P-Network, nota anche come P-Crypto, sono entrambe criptovalute, ma presentano alcune differenze significative. Ecco un confronto tra le due. Tecnologia Blockchain, Bitcoin opera su una blockchain pubblica e decentralizzata, mentre la P-Network sta sviluppando una blockchain che mira a essere più efficiente dal punto di vista energetico e accessibile agli utenti di smartphone. Mining, Bitcoin utilizza un meccanismo di consenso Proof-of-Work PoA WV, in cui i minatori risolvono complessi problemi matematici per convalidare le transazioni e proteggere la rete. D'altro canto, la P-Network utilizza un nuovo algoritmo di consenso chiamato Proof-of-Authenticity, PoA, progettato per essere più user-friendly e meno energivoro. Valore, Bitcoin ha guadagnato una significativa popolarità e riconoscimento nel corso degli anni, risultando in un alto valore di mercato e liquidità. Il valore della P-Network è ancora nelle fasi iniziali e non è ancora scambiato. Il valore della P-Network è ancora scambiato iniziali e non è ancora scambiato iniziali e non è ancora scambiato. Il valore della P-Network. Il valore della P-Network. Ma è importante notare che la comunità P ha raggiunto quasi 100 milioni di membri e, man mano che questo numero cresce, diventerà molto importante nella valutazione del valore. Alcuni stimano che il prezzo supererà il valore dei Bitcoin, ma solo il tempo lo dirà. Tuttavia, è comune che il valore di una criptovaluta fluttui e possa essere influenzato da fattori come la domanda, l'adozione e le prestazioni complessive della rete. È estremamente importante per tutti i membri di P registrare il loro KYC e creare i loro portafogli elettronici per la migrazione alla mainnet. Attenzione! Se avete problemi o avete bisogno di assistenza per completare questi dettagli di P, vi preghiamo di iscrivervi a questo canale e di iscriverci riguardo al problema che potreste avere. Faremo del nostro meglio per aiutarvi. Grazie!